Siamo qui con Mimmo Fina per quanto riguarda LadyTaxi, quindi questo progetto innovativo. Allora, volevo chiederti innanzitutto come nasce l'idea di LadyTaxi? L'idea nasce dal fatto che l'amministratrice della società è la mia compagna, quindi una donna, detto perché abbiamo optato per un nome alfemile, diverso dal solito trend o target dei nomi che vediamo in giro per quanto riguarda le compagnie di trasporto persona con conducente. Cosa proponete? Un po' a chi vi chiama? Noi ci rivolgiamo a tutto il pubblico, all'utenza turistica e anche a professionisti che hanno bisogno di essere portati in aeroporto oppure dall'aeroporto arrivare nelle strutture alberghiere o anche proprio con le strutture alberghiere che offrono ai loro ospiti tour per visitare comunque le zone della Valle d'Idria, del Basso Salento, la Gravina, il Materano e tutto quello che di bello abbiamo nella nostra Puglia. E i turisti che vengono con voi, quindi qual è il loro rapporto, cosa dicono, quali sono i commenti che fanno? Sicuramente noi cerchiamo di offrire un servizio professionale a tutto tondo, innanzitutto garantiamo puntualità all'ospite che va in aeroporto o che arriva in aeroporto per essere trasferito o portato. Offriamo comunque a tutti acqua e snack all'interno dell'auto per potergli garantire comunque un percorso in modo rilassante e senza problemi durante il viaggio, magari uno si vuole fermare per comprare dell'acqua o altro, quindi noi abbiamo già tutto a bordo e gli garantiamo comunque un percorso sereno. Progetti futuri di VediTaxi? Progetti futuri, sì, perché comunque noi siamo partiti da zero, abbiamo cominciato con due macchine abbastanza vetuste e poi abbiamo comunque investito e acquistato due Mercedes Mercedes classe V per poter garantire al cliente uno standard elevato che molto spesso gli stranieri che arrivano in Italia comunque pretendono comunque di viaggiare con delle auto VIP. Come vi possono contattare i turisti? Ci possono contattare, noi abbiamo due siti internet, ladytaxi.it e salentocab.it che coprono entrambe le zone, da Santa Maria di Levoca fino a tutto il nord barese. Un'ultima domanda, per un giovane che vorrebbe lanciarsi in un'attività imprenditoriale un po' come la vostra, qual è il consiglio da dare? Sicuramente il consiglio di darci è provarci, perché comunque la Puglia offre tanto e il turismo è sempre in crescita, le percentuali di crescita del turismo sono sempre a doppia cifra, quindi sicuramente consiglierei di provare, anche perché comunque molto spesso anche compagnie cinematografiche vengono a girare film in Puglia e hanno bisogno dell'assistenza per tutta la produzione, serie tv, tanti format che mi sono girati in Puglia, necessitano comunque di trasferimenti di persone, sia sul luogo che per quanto riguarda posti, stazioni e aeroporto. Eccoci qui da Italia Notizie, stiamo facendo giornalismo sul campo, siamo con Maria Giovanna Grottaglie e la sua attività barra ditta Lady Taxi, ciao Maria Giovanna! Ciao! Ma dove ci stai portando con questo taxi che è bellissimo, è grandissimo! Andiamo a San Vito, dove incontreremo il mio collega con il suo van, che noi abbiamo due van, siamo una ditta nata da poco, relativamente, cinque anni, partita dal nulla, diciamo che ci siamo inventati, perché ci piace tanto avere contatto con la gente e girare per tutta la Puglia e l'Italia. Che bello! Immagino che all'interno di questo taxi, quindi oggi, in questo momento, non oggi, stiamo valorizzando l'interno del taxi, guardate ragazzi, guardate quanto è bello stare all'interno di un taxi così innovativo, dove la donna è una taxista, quindi anche un bel messaggio femminista e godere, avere la possibilità di godere il nostro poesaggio salentino fatto di ulivi, di alberi, guardate quanto verde! C'è già il tragitto in sé, diventa un viaggio, un viaggio dove possiamo vedere la bellezza del nostro territorio. Vuoi dirci qualcosa su San Vito dei Normanni? Perché dovrebbero venire con te le persone e girare nel tuo taxi a San Vito dei Normanni? Che cosa c'è di speciale? Allora, noi in realtà non giriamo soltanto in San Vito dei Normanni, noi giriamo, organizziamo anche dei tour in tutta la Puglia, che sia anche nel Basso Salento o nelle località di interesse nella zona, tra cui anche San Vito dei Normanni, ma noi stiamo partendo da Ustuni, che è molto conosciuta come la città bianca. E niente, San Vito dei Normanni si trova in una posizione strategica, perché è vicina, che è la periferia del Basso Salento e di qui ci spostiamo ovunque. Abbiamo un sacco di masserie qui, che sono ormai meta di gente proveniente dall'America, dall'Inghilterra, ormai è un posto, diciamo, internazionale. Quest'anno abbiamo avuto tanti turisti e si prospetta per l'anno prossimo una stagione ancora migliore di questa. E allora, anche per oggi da Italia Notizie è tutto, continuate a seguirci, ma soprattutto seguite questa grandissima donna. Ciao!